La Puglia è una terra dove Forza Nova sta sicuramente crescendo, specialmente la recente apertura della sede di Lecce e le prossime aperture in provincia di Taranto danno l'idea di una regione che inizia a essere in crescita. Ricordiamo che in Puglia vi è anche l'esperimento di Vendola, che è un esperimento di apparente nuova politica, ma in realtà ricalca perfettamente gli schemi della politica nazionale. Se pensiamo ai tagli fortissimi che sono stati fatti alla sanità, se pensiamo anche agli episodi di corruzione che hanno circondato l'entourage di Vendola e se pensiamo soprattutto al fatto che questa terra non conosce un risveglio nel mondo del lavoro che potrebbe effettivamente conoscere, se pensiamo alle grandi risorse di questa regione, sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista dell'agricoltura. Noi ricordiamo che o vi è un rilancio dell'agricoltura in una regione come la Puglia, oppure siamo destinati a seguire delle chimere di stampo politico affaristico che porteranno questa regione a essere sempre più schiava dei poteri forti.